Autocarrozzeria Fratelli Penna La ditta Fratelli Penna e Andreucci opera nel settore autoveicoli dal 1968. Essendo certificata ISO 9001, è fornita delle attrezzature tecnologicamente più avanzate per la diagnosi e la riparazione di tutte le marche di autoveicoli e fornisce anche assistenza di soccorso stradale ACI 24 ore su 24. Specializzata in apertura auto senza chiavi, effetto a servizio pneumatici, convergenza, assistenza a impianti climatizzazione e servizio di elettrauto. Grazie all'esperienza e la professionalità maturata negli anni, riesce ad effettuare riparazioni di qualità ed elevata complessità tecnologica.